allora grazie ragazzi per essere venuti e grazie a Dio che non è venuto a piovere mi sono tirato indietro ragazzi io guardate che cerco se per farvi divertire dai adesso stasera mi raccomando e spaccate le canne e fate funzionare le frizioni una buona serata a tutti e saluti e baci salutate e baciate grazie a tutti grazie a tutti è mezzanotte ma chi è capace di pescare anche le trote tirano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti